La sanità comasca divisa a metà. Il progetto di riorganizzazione di ASL e aziende ospedaliere licenziato oggi dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia porterà una parte dell'Ario a dipendere da Sondrio e dalla Valtellina, mentre il resto della provincia verrà accorpato a Varese. La riforma del sistema sanitario regionale prevede l'istituzione di ATS, Agenzie di Tutela della Salute, simili alle ASL ma con competenze più ampie, si di programmazione, prevenzione, vigilanza e controllo. All'interno delle ATS verranno istituite le ASST, aziende sociosanitarie territoriali che erogheranno i servizi. Continueranno a chiamarsi aziende ospedaliere solamente le strutture con più di mille posti. L'azienda sociosanitaria territoriale di Como, che comprende tutta la provincia eccezione fatta per il Medio e Alto Lario, sarà insieme con Varese e Busto Arsizio sotto l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria. L'attuale distretto Medio-Alto Lario dell'ASL di Como sarà invece parte dell'azienda sociosanitaria territoriale della Valtellina e quindi dipenderà da Sondrio. Valtellina e Valcamonica sono sotto l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna. Un piano di riorganizzazione che non convince Luca Gaffuri, consigliere regionale comasco del Partito Democratico che siede in Commissione Sanità. In base ai dati che mi sono stati forniti, dice, Como non attrae molti pazienti dalla provincia di Varese, mentre i numeri da Lecco e Monza sono più alti, ciò significa che l'accorpamento è stato disegnato con una matita sulla cartina, senza tener conto dei flussi dei pazienti e senza il coinvolgimento degli amministratori locali e degli operatori sanitari. La riforma della sanità arriverà nell'Aula del Consiglio regionale a metà luglio e il PD chiederà un dibattito approfondito sul tema.